Musica Elman Ousama, il giovane algerino di 19 anni morto nel CPR di Palazzo San Gervasio a Potenza, non è stato picchiato, ma ciò non esclude alcuna fattispecie di reato. Compresi l'omicidio doloso, colposo e un atto autolesionistico. Secondo il procuratore della Repubblica, al CPR non si è in linea con gli standard di sicurezza. È rivolta. A Pulsano, una settimana dopo il terribile incendio che ha distrutto Lido Silvana e divorato Rita Fasanella, è il lutto cittadino. Bandiere a mezz'asta, spettacoli annullati e minuto di silenzio. I danni sono incalcolabili, mentre un doppio allarme arriva per i gravi eventi atmosferici degli ultimi giorni. Le manutenzioni diventano priorità. Canzoni tradotte in 150 paesi, fama internazionale, Sanremo, Grammy, film e libri. Sono passati 30 anni dalla scomparsa di Domenico Modugno e tutti, ma proprio tutti, conoscono quel brano che lo ha reso famoso nel mondo. Nel blu dipinto di blu e a Polignano ancora la si canta ai piedi delle sue braccia al vento. Buonasera e benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione di Antena Sud. In apertura del nostro telegiornale interregionale di Puglia e Basilicata, la cronaca, lo avete sentito dai titoli, non ha subito percosse o violenze, ma non sembrerebbero naturali le cause della morte avvenuta nel centro PR di Palazzo San Gervasio, a potenza dell'Algerino, 19enne, una morte a seguito della quale è scoppiata una violenta rivolta proprio all'interno del centro. Ci dice tutto il servizio di apertura di Francesco Cudo. In primo luogo ci tengo a smentire alcune notizie che sono comparse sui mezzi di informazione, e cioè sul fatto che il ragazzo, 19enne, di origine algerina, trattenuto nel CPR, sia morto a seguito di percorsi. Non ci sono segni di violenza e quindi è stata disposta una consulenza perché certamente non sembra assolutamente dipendere da cause naturali il decesso del povero ragazzo. Si chiamava Osama Bellam, il 19enne morto intorno alle ore 15 di lunedì 5 agosto nel centro di permanenza per i rimpatri di Palazzo San Gervasio. Il giovane algerino, stroncato da un infarto, potrebbe aver assunto qualche sostanza pericolosa che ne ha causato l'arresto cardiaco. Su questa ipotesi sta indagando la procura di potenza che ha sequestrato tutta la documentazione relativa ai trattamenti sanitari del giovane che si trovava sotto terapia farmacologica. Il decesso di Osama sarebbe stato segnalato con ampio ritardo considerando anche che nel momento della scoperta del cadavere avvenuta diverse ore dopo all'interno del centro c'era solamente un infermiere a disposizione degli oltre 100 trattenuti. Proprio la gestione dell'infermeria era già finita sotto indagine con la precedente cooperativa che gestiva il CPR. La scoperta della morte del 19enne ha fatto successivamente scoppiare una violenta rivolta all'interno del centro con gli ospiti presenti che hanno dato fuoco a quattro moduli della struttura. Situazione che per essere sedata ha visto l'intervento di oltre 50 unità tra polizia, carabinieri, guardia di finanza e vigili del fuoco impegnati in una complicata attività di ordine pubblico e personale del 118 Basilicata intervenuto sul posto con 5 ambulanze e l'elicottero. Come confermato dalle forze di polizia, non ci sono stati feriti. Ci spostiamo a Roma dopo il caso Toti, oggi in giro per la capitale. Il ministro Salvini propone la scudo per i governatori e la proposta divide i partiti. Il servizio è di Francesco Mai Grasso. L'ex presidente della regione Liguria nella capitale giro di incontri per Giovanni Toti vede big e responsabili del centro-destra al centro in nome del suo successore. Partita che dovrebbe chiudersi entro fine agosto vede il ministro del Carroccio Salvini che parlando della vicenda Toti che andrà a processo il prossimo 5 novembre con l'accusa di corruzione e finanziamento illecito ha proposto uno scudo per gli amministratori locali per evitare che si ripetano vicende simili una sorta di monità fino a fine mandato per garantire una continuità amministrativa. Una protezione che, ripeto, non è per Toti, per Rossi per Bianchi, per Verdi per chi la incarna in quel momento è protezione del mandato popolare che ti è stato affidato come d'altra parte la divisione dei poteri e la nostra legislazione prevedeva prima di mani puliti. La doppia strada, la legittimità da parte di un organo come la magistratura di compiere fino in fondo le sue indagini e dall'altra però la stessa legittimità da parte di chi viene eletto dai cittadini di non vedersi interrotto il proprio mandato. Una proposta che nella stessa maggioranza di governo è divisa tra favorevoli e scettici. Ne immagino e prevedo che sarebbe di facile approvazione perché susciterebbe tante di quelle ire che si continuerà con questo strapotere della magistratura. Profondamente contrarre le opposizioni. Salvini farebbe bene a dire prima che gli amministratori politici non sono perseguibili perché sono cittadini a di sopra di ogni sospetto. È una vergogna totale. Spero che monti l'indignazione. Perché per i governatori sì, per i sindaci no. Sono proposte che lasciano il tempo che trovano del tutto strumentali e che oltretutto introdurrebbero una disparità di trattamento inaccettabile. Dare ulteriori possibilità di libertà a chi lavora per il bene della gente non credo che sia corretto. D'altro canto noi siamo assolutamente anche contro l'abolizione dell'abuso di ufficio. Andiamo nella Bat. Un pensionato di 77 anni, Sergio Ferrucci, è morto schiacciato da un camion della nettezza urbana in piazza Vittorio Emanuele a Biceglie nei pressi della villa comunale. Secondo quanto ricostruito finora, il mezzo era in manovra di retromarcia e il conducente non si sarebbe accorto che l'anziano era sentito su una panchina. La cronaca è di Antonio Gargano. Tragedia nella mattinata di martedì a Biceglie. Un uomo di 78 anni è morto dopo essere stato investito da un mezzo della nettezza urbana in piazza Vittorio Emanuele nel pieno centro cittadino. L'episodio sarebbe avvenuto nei pressi dei bagni pubblici con il camion della raccolta rifiuti che ha colpito l'anziano di passaggio nell'area. Soccorsi immediatamente allertati dai passanti ma inutili per la vittima che sarebbe deceduta sul colpo a seguito dell'impatto. Sotto shock il conducente del veicolo che avrebbe effettuato la retromarcia senza però rendersi conto del transito dell'uomo alle sue spalle. Sul posto i carabinieri e la polizia locale per accertare la dinamica dell'accaduto. Giunto nei minuti successivi anche il medico legale per il primo esame esterno. Questo è il momento del silenzio e del rispetto. Esprimiamo la nostra commossa e sentita vicinanza ai familiari del nostro concittadino rimasto vittima dell'incidente unitamente alle condoglianze di tutta la cittadinanza. Questo è il messaggio del sindaco di Biceglie Angela Antonio Angarano. In merito al caso c'è un aggiornamento indagato per omicidio stradale l'uomo di 62 anni di Biceglie che era alla guida del mezzo e che ha travolto e ucciso Sergio Ferrucci di 77 anni come avete sentito mentre si trovava nella villa comunale di Biceglie sul corpo dell'anziano la procura di Trani ha disposto l'autopsia che sarà eseguita nei prossimi giorni dal professor Francesco Vinci dell'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Bari. Il mezzo per la raccolta dei rifiuti è stato sequestrato e saranno compiuti accertamenti ed una perizia tecnica per verificare che tutto fosse a norma ad esempio se fossero attivi dei segnali all'interno del mezzo. Andiamo avanti si indaga Cavallino su due episodi intimidatori verificatosi nella notte fra domenica e lunedì il servizio di Francesco Schiavano. Sono due gli episodi che hanno scosso la città di Cavallino in queste ore sui quali i carabinieri del locale comando stazione e la sezione operativa della compagnia del capoluogo salentino stanno indagando per scoprire eventuali collegamenti tra le due vicende e risalire all'identità degli autori. Il tutto si è verificato nella notte tra domenica e lunedì intorno alle 5 una Seat Leon parcheggiata in via Margherita di Savoia ed intestata ad un quarantenne del posto noto alle forze dell'ordine stata data alle fiamme. Il rogo domato dai vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce intervenuti sul posto insieme alle forze dell'ordine ha interessato la parte posteriore del veicolo causando fortunatamente pochi danni. Alcuni minuti dopo questo primo episodio poi 13 colpi d'arma da fuoco sono stati sparati contro la porta di un'abitazione di via Trieste poco distante dal luogo dell'incendio. A sparare secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri sarebbe stata una pistola l'avvertimento invece ha per destinatario probabilmente un 37enne del posto che vive nella casa interessata dall'intimidazione. Su entrambi gli episodi indagano i carabinieri che hanno già acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona e ascoltato i residenti per ottenere elementi utili a risalire all'identità dei responsabili dei due avvenimenti. Il dolore della comunità di San Vito dei Normanni per la tragica morte del 25enne Andrea Catamerò falciato da un'auto nella notte di domenica venerdì invece l'autopsia in carcere il pirata. Il servizio è di Anna Saponaro. Salma sotto sequestro a disposizione del PM del Tribunale di Brindisi Livia Orlando in attesa dell'esame autoptico il cui incarico potrebbe essere affidato al medico legale venerdì. Solo dopo sarà possibile salutare per l'ultima volta Andrea Catamerò il 25enne di San Vito dei Normanni travolto e ucciso da un'auto nella notte tra domenica e lunedì dopo aver trascorso la serata in compagnia di amici in un lido che si trova in località Il Pilone lungo la costa di Ostuni. La nostra città è scossa da questa notizia dolorosa che colpisce tutti noi soprattutto per la dinamica dell'evento. Invito tutti a riflettere sull'importanza della responsabilità che abbiamo nei confronti del prossimo ogni volta che ci mettiamo alla guida ha commentato il sindaco della città bianca Angelo Pomes La cerimonia funebre si terrà nella chiesa di Santa Maria della Vittoria a San Vito nel cuore della cittadina normanna che il giorno dopo il dramma è ancora attonita in tanti conoscevano Andrea la sua famiglia mamma Fiorella papà Salvatore la sua casa di via Vittoria Emanuele III Non lo conoscevo però è sempre un ragazzo e dispiace perché morire a quell'età è brutto e rimane nel cuore della madre un dolore che non finirà mai Di persona non lo conoscevo però è sempre un ragazzo di San Vito che era pure nominato era nipote a un signore che è morto il giorno prima è morto e purtroppo il paese si vestirà di lutto sicuramente e bisogna aspettare pure l'autopsia prima di fare il funerale Intanto in carcere con l'accusa di omicigio stradale aggravato e omissioni di soccorso dopo che gli amici di Andrea erano riusciti ad appuntare la targa della Mercedes che lo ha travolto Marco Mola 26enne residente a Pezze di Greco che avrà la possibilità di indicare dei periti di parte un dramma nel dramma quello di una vita interrotta tragicamente quello di una vita che non sarà più la stessa di due famiglie piombate nel dolore atroce che le accompagnerà per sempre Ci spostiamo nel Tarantino sarà effettuata domani mattina l'autopsia sul corpo di Nicola Grassi l'uomo di 33 anni morto folgorato mentre lavorava in un'azienda agricola nelle campagne di Palagiano nel Tarantino appunto la procura ha aperto una inchiesta per accertare l'esatta dinamica dell'incidente in cui è rimasto ferito anche il fratello della vittima che dopo un breve ricovero nell'ospedale di Castellaneta sarà trasferito nel centro grandi ustioni dell'ospedale Perrino di Brindisi secondo quanto emerso finora dai rilievi eseguiti dai carabinieri che conducono appunto le indagini il 33enne stava utilizzando una pompa di immersione quando è stato raggiunto da una potente scarica elettrica che non gli ha lasciato scampo vi daremo ovviamente aggiornamento rispetto a questo nelle prossime edizioni dei telegiornali torniamo a parlare della tragedia che è avvenuta a Pulsano dopo una settimana dal terribile incendio di Lido Silvana e lutto cittadino scusate bandiere a mezzasta spettacoli annullati e un minuto di silenzio il servizio che riassume il tutto è di Laura Milano alle 12 in punto le campane della chiesa cittadina si fanno sentire le attività commerciali abbassano le serrande Pulsano si presenta così nella giornata del ricordo poca gente per strada c'è silenzio in un martedì 6 agosto in cui le bandiere sono a mezzasta e non solo quelle della casa comunale il pensiero di tutti è rivolto a quanto una settimana prima accadesse in quelle stesse ore alle fiamme che avanzavano a chi ha dovuto lasciare di colpo tutto e scappare agli esercizi commerciali alle strutture ricettive danneggiate all'intenso lavoro dei vigili del fuoco e da tutte le forze dell'ordine impegnate nel disastro alle istituzioni cittadine che mai avrebbero potuto immaginare di dover fronteggiare una situazione così difficile ma il pensiero va soprattutto alla signora Rita Fasanella vittima dell'incendio che ha colpito Lido Silvana Siamo tutti vicini alla famiglia della signora e anche se siamo usciti insomma le attività sono aperte siamo comunque addolorati come state vivendo questa giornata questo momento quello che è successo è molto triste insomma si è perso una vita umana per per l'incendio Lido Silvana e quindi siamo tutto il paese molto colpito e vicino alla famiglia purtroppo della signora che ha perso la vita serrande giù alle 12 per dire a tutti un momento solo un momento lasciateci pensare alla nostra terra alla nostra pineta alle bellezze della nostra città turistica che presto tirando nuovamente su queste serrande proprio noi solleveremo più forte di prima Un doppio allarme arriva dai gravi eventi atmosferici di questi ultimi giorni dall'incendio di Lido Silvana e dal nubifragio di Ginosa Marina arriva un messaggio chiaro le manutenzioni diventano priorità e la politica deve adeguarsi ai tempi che cambiano Leo Spalluto Prima il fuoco poi l'acqua e l'aria ovvero il vento tre dei quattro elementi fondamentali della natura si sono ribellati contro l'uomo in provincia di Taranto nell'arco di pochi giorni un doppio monito è arrivato dal tragico incendio di Lido Silvana che ha distrutto una vita umana oltre che case alberi e poi dal nubifragio delle marine di Ginosa e Castellaneta di domenica sera tra muri distrutti tetti danneggiati e in questo caso alberi sradicati adesso è tempo di agire indipendentemente dai colori politici e dalle appartenenze in tutte le latitudini la politica deve compiere un salto di qualità e adeguarsi ai tempi nuovi ai cambi climatici alle nuove esigenze dettate da condizioni atmosferiche che possono essere impreviste e improvvise mettendo al bando le battaglie per le singole posizioni di rendita per l'incarico e lo strapuntino in più la parola prioritaria adesso è manutenzione più ordinaria che straordinaria le operazioni di pulizia ovunque ci sia vegetazione devono essere costanti ed efficaci vie i residui detriti l'erbaccia per evitare che anche il singolo mozzicone di sigaretta possa diventare la miccia di un incendio incontrollabile e allo stesso tempo va dedicata massima attenzione alle potature e alla messa in sicurezza degli alberi per evitare che cadano rovinosamente su automobili case e persone il lavoro che una volta compivano i cantonieri gli operai addetti alla manutenzione delle strade una figura del passato che andrebbe ripristinata ovunque andiamo avanti la denuncia di degrado da parte dei cittadini di piazza Umberto a Bari non solo scarsa igiene ma anche risse e paura siamo stati per le segnalazioni con i nostri microfoni più pulizia più controlli anche perché soprattutto nella zona della stazione ci sono sempre più persone che dormono per terra purtroppo lasciano sporco anche rifiuti umani diciamo e poi è evidente anche che ci siano i segni anche di qualcuno che si droga da una certa ora in poi non c'è veramente credo nessun tipo di controllo c'è una situazione un po' di degrado sporcizza generale sia in piazza Muro che in piazza Umberto cosa chiederesti? maggior controllo magari c'è poca polizia locale più di volte c'è soltanto una pattuglia lì però non sembra che vigili completamente tutta l'area anche se ultimamente sto vedendo delle forze dell'ordine più che altro dell'esercito che è qui vicino a piazza Umberto che fossero un pochettino più attivi cioè nel senso al massimo giron solare per la zona anziché stare sul loro posto per tutta la giornata a livello di igiene diciamo non ci si può lamentare nonostante l'aumento del turismo quindi l'aumento inevitabile del passeggio a parte la pulizia c'è anche la fontana che per esempio veniva pulita quasi mai invece ora vedo che molto spesso viene pulita e si chiederei anche io magari qualche maggiore controllo anche stamattina sentivo molte persone comunque litigare o urlare quindi magari un inizio di riso un miglioramento è stato notevole io ricordo tantissimi anni fa non era così Bari adesso è molto invitante sembra abbastanza tranquilla al momento forse la sera diventa un pochino più pericolosa quindi forse sì ci vorrebbe un pochino più di ordine un po' più di controllo diciamo mercoledì mattina è convocato un comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica andrò a relazionare rispetto alle iniziative che intendiamo intraprendere tenendo conto ovviamente che la questione sicurezza non è una prerogativa non è una competenza dell'amministrazione comunale però noi non intendiamo sottrarci nel dare il nostro contributo affinché i cittadini possano acquisire percepire maggiore sicurezza in città e comunque fare in modo che la città sia più vivibile torniamo nella BAT gli aghi di Pino in strada furono la concausa della morte di Raffaele Casale svolta nel caso del giovane chef deceduto a Trani nel 2017 il GIP ha rigettato la richiesta di archiviazione e ha disposto per gli indagati l'imputazione per omicidio stradale Raffaele Casale è morto anche a causa delle omissioni nella corretta gestione della pulizia del tratto stradale di via Martiri di Palermo a Trani afflitto dalla presenza degli aghi di Pino così il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Trani Lucia Anna Altamura ha rigettato la richiesta di archiviazione sul caso della morte dello chef Raffaele Casale avvenuta il 16 agosto 2017 per papà Felice ha vinto la giustizia il GIP ha disposto per gli indagati Francesco Patrono RUP del contratto di servizio con l'azienda di igiene urbana Amiu ed Alessandro Guadagnolo amministratore unico all'epoca dei fatti di Amiu l'impugnazione è coatta per concorso in omicidio stradale secondo quanto ricostruito nel procedimento il motociclista percorreva ad una velocità sostenuta intorno ai 90 orari e perse aderenza sull'asfalto in una curva a sinistra finendo per sbattere con la moto prima sul cordolo della pista ciclabile e poi contro la recensione di un cantiere nei pressi di un palo a fondamento delle sue richieste di archiviazione l'eccesso di velocità del conducente della moto ma la famiglia aveva sempre puntato a dimostrare che il giovane non sarebbe mai caduto se non avesse perso aderenza sull'asfalto a causa della presenza degli aghi di Pino Amiu aveva fatto sapere di essere stata sul posto per la pulizia della strada le fotografie fornite dal papà di Casale scattate nell'immediatezza della morte di Raffaele documentavano invece la presenza di mucchi di ago di Pino lungo il bordo della carreggiata il GIP scrive nell'ordinanza si deve evincere la non trascurabilità degli aghi di Pino non potendo escludere la sussistenza del nesso di causalità tra le condizioni della strada e l'evento mortale andiamo avanti con la cronaca ci spostiamo a Lecce sbaglia marcia e sfonda la vetrina di un negozio la cronaca è di Maria Teresa Carrozzo nei giorni scorsi un incidente sorprendente si è verificato nel centro di Lecce a pochi passi da Piazza Mazzini poco dopo la mezzanotte un'auto parcheggiata ha subito un'improvvisa accelerazione invece di inserire la retromarcia il conducente ha erroneamente innestato la prima marcia partendo a grande velocità l'uomo al volante ha perso il controllo del veicolo che è finito dritto contro la vetrina di un negozio causando ingenti danni all'ingresso l'impatto ha provocato la rottura del vetro e ha messo a rischio la sicurezza della zona in seguito all'incidente è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'aria circostante e rimuovere i detriti fortunatamente non si sono registrati i feriti ma l'episodio ha destato preoccupazione tra i residenti e i commercianti della zona sottolineando l'importanza di prestare attenzione alla guida soprattutto in aree densamente popolate sopra il luogo agli impianti di acciaierie d'italia da parte del gruppo canadese stelco le novità arrivano dopo le visite di indiani ucraini e degli italiani in servizio di leo spaluto una certezza in più anche i canadesi di stelco hanno effettuato un sopralluogo negli impianti di acciaierie d'italia e sono pronti a concorrere per l'acquisizione dell'intero gruppo siderurgico la promulgazione da parte del governo del bando per l'acquisto dell'exilva con una scadenza fissata al 20 settembre per le manifestazioni di interesse ha dato una scossa ulteriore dopo gli indiani di Vulcan Steel e Steelmont e gli ucraini di Metinvest anche i rappresentanti del gruppo d'oltreoceano che sta per essere acquisito dagli americani di Cleveland Cliffs hanno visitato gli impianti e ne avrebbero ricavato a quanto pare un giudizio positivo facile pensare a questo punto che i quattro gruppi stranieri presentino effettivamente una loro proposta entro il 20 settembre che dovrà essere poi formalizzata entro novembre sono già della partita anche i gruppi italiani Marcegaglia e Sideralba che però sarebbero interessati solo alla produzione dei tubi e quindi ad un'acquisizione parziale uno spezzatino subito contrastato dalle organizzazioni sindacali il bando ovviamente resta aperto ancora per più di un mese e potrebbe riservare sorprese anche il gruppo cremonese Arvedi che al momento non ha battuto ciglio potrebbe effettuare una propria mossa l'intento del governo è sin troppo chiaro ribadito nelle ultime ore dal ministro dell'impresa Urso avere entro l'inizio del 2025 il rilancio di acceirie attraverso un gruppo internazionale di valore torniamo a parlare del mare inquinato a Barletta nuovi rilievi nei pressi del canale H lungo la litoranea di Ponente il comitato operazione aria pulita tramite il campionamento effettuato da un laboratorio privato vuole vederci chiaro dopo il contrasto tra Arpa e Goletta Verde sentiamo nuovo campionamento presso il canale H lungo la litoranea di Ponente di Barletta dopo il riscontro ottenuto da Arpa che ha confermato la balneabilità delle acque nel tratto di spiaggia libera il comitato operazione aria pulita non ci sta ed effettua nuovi rilievi tramite laboratori privati per accertare invece i dati ottenuti da Goletta Verde l'inerzia della pubblica amministrazione ha portato i cittadini a verificare se effettivamente questo mare è balneabile o meno e anche il dubbio che ci ha diciamo fatto venire l'Arpa a seguito delle dichiarazioni di ieri la quale Arpa alla fine non si è assunta nessuna responsabilità ha detto le analisi può essere che le analisi di Goletta Verde siano buone in quanto noi le abbiamo fatti in una zona diversa non alla fuce del canalone siccome alla fuce del canalone si vengono a bagnare i bambini e le mamme sono preoccupate noi le abbiamo voluto fare qua giusto per una sicurezza martedì mattina il campionamento effettuato dai tecnici di laboratorio sia all'interno del canale sia nell'area immediatamente adiacente allo sbocco in mare risultati attesi nel corso della settimana il campionamento è stato eseguito per mezzo di questi contenitori sterili sono stati immersi ad una profondità di circa 30 centimetri dal pilo dell'acqua a una distanza dalla battigia di circa 80-120 centimetri d'altezza dell'acqua i valori limiti sono sempre fissati dal decrito ministeriale e sarebbero di 200 unità formanti colonie per quanto riguarda gli enterococchi e di circa 500 unità formanti colonie per 100 ml di prodotto di acqua per quanto riguarda gli scherichi aculi tre discariche una accanto all'altra è il caso della città di Manduria siamo stati con Marzia Baldari terra del primitivo del sole del mare delle discariche come te non c'è nessuno poche città come Manduria possono vantare di ricevere un premio perché sede di discarica tutte vicine quasi una accanto all'altra c'è l'impianto di compostaggio e del 94 l'attiva discarica Manduria Ambiente la dismessa le cicci e accanto alla primissima discarica di Manduria un lungo muretto dove si ammassavano rifiuti solo comunali uno due due quella è la discarica le cicci ma andiamo vicino c'è anche la tre cosa di compostaggio e proprio sopra l'incompiuta bradanico salentina con il manduriano Marco Barbieri ex consigliere comunale ci spostiamo a vederle più da vicino chi abita qua ormai è abituato però chi viene sente pesantezza la testa è un prurito qui alla gola di Mizzera adesso è iniziato pure a me e quelli sono i gas con un forte odore nelle narici il prurito alla gola i giramenti di testa con Marco ci dirigiamo ai vicinissimi quartieri abitati quello cittucittu e al quartiere San Giovanni a circa 750 metri dalle discariche dove abita anche Marco insieme a una cinquantina di persone fra tiroide allergie varie più della metà e tumori tumore polmoni ci sono tre casi altri due casi di tumore non ai polmoni ma altre questo è il quartiere patologie questo è il quartiere San Giovanni di cui abito anch'io troppi malati per un piccolo quartiere troppa vicina alla distanza con le discariche Marco ha deciso di rompere il silenzio a seguito della notizia sull'incidenza di patologie tumorali tra i dipendenti di Manduria Ambiente e la discussione sul possibile ampliamento della discarica manduriana emerge così un dramma che ricorda una spaventosa analogia quella con il quartiere Tamburi di Taranto confinante con l'exilva ci fermiamo per la pubblicità restate con noi ben trovati ripartiamo da Brindisi il caso dell'albero caduto a piazza Sapri domenica pomeriggio finisce anche nella discussione della commissione lavori pubblici sentiamo monitoraggio del verde pubblico in città dopo la caduta dell'albero di piazza Sapri al centro del dibattito della commissione lavori pubblici alla presenza anche dell'assessore a Ramo Cosimo Elmo un'occasione anche per fare il punto sullo stato dei finanziamenti del PNRR sicuramente sta lavorando molto bene l'assessore Elmo perché dopo quello che è successo è ovvio che dobbiamo cercare di monitorare tutto quello che è la situazione del verde e quindi su questo già si stanno attivando le strutture in modo tale di avere chiara qual è la situazione e nel caso vedere come poter intervenire per risolvere i vari problemi che potrebbero venire fuori da questa ricognizione sulla situazione oggi esistente per quanto riguarda tutti i progetti di iniziativa del PNRR sì è evidente che ci sono alcune iniziative sulle quali bisogna cercare di lavorare e trovare una disponibilità finanziaria sufficiente per poter terminare quel tipo di progetto che è stato modificato in corso d'opera per alcune esigenze che sono venute fuori soprattutto a causa di un territorio che ha bisogno sicuramente di interventi diversi è ovvio che sul PNRR dobbiamo cercare di lavorare adesso soprattutto sul quarto perché sul quarto investimento noi potremmo cercare di poter inserire altre possibilità e altri progetti che abbiamo già pronti che possono essere senza altro finanziati dal PNRR mentre l'assessore ai lavori pubblici Gianpaolo Scorrano ai nostri microfoni ha svelato che l'impegno sarà quello di avere la darsena di San Cataldo pronta per il 27 giorno in cui sfilerà la processione di San Toronzo in mare il servizio di Pierandrea Fanigliulo la speranza accompagnata da un forte impegno in tal senso come ci racconta l'assessore leccese Gianpaolo Scorrano è quella di consegnare alla comunità la darsena di San Cataldo entro il 27 data in cui tornerà l'antica processione di San Toronzo che vedrà la sfilata del santo in mare la volontà dell'amministrazione è restituire finalmente questa importantissima infrastruttura per il giorno 27 di agosto l'ultimo giorno della nostra festa padronale per fare proprio la processione a mare di San Toronzo come avveniva già tantissimo tempo fa abbiamo proceduto a completare i lavori a posizionare i corpi morti e le catenarie all'interno dello specchio acquo e a rimuovere la recensione di cantiere ora insieme al settore lavori pubblici abbiamo trasmesso anche l'ultimo documento a carico dell'amministrazione comunale che era il rilievo batimetrico dello specchio acquo e siamo in attesa che la capitaneria di Porto ci dia il necessario nulla osta per poter fare la consegna ufficiale alla ditta che si aggiudicò la gara cioè la Salento navigando ecco quindi San Toronzo ci sarà una processione di San Toronzo a San Cataldo ma soprattutto poi la Darsena questo è un primo step ci sono dei progetti futuri più ambiziosi come ha già accennato il nostro sindaco abbiamo in cantiere diversi progetti sia per il porto di Frigole sia per il porto di San Cataldo per il porto di San Cataldo sicuramente l'ampliamento del nostro porto che da Proto da Darsena potrebbe diventare un vero e proprio porto turistico con tutte quelle che sono poi le infrastrutture che stanno dietro un porto turistico una marina che sarebbe importantissima per una città capoluogo come Lecce canzoni tradotte in 150 paesi firma internazionale Sanremo grammi film e libri sono passati 30 anni dalla scomparsa di Domenico Modugno e tutti ma proprio tutti conoscono quel brano ormai noto appunto a tutti nel blu dipinto di blu il servizio è di Antonella Fazio le sue canzoni sono state tradotte in 150 paesi e quella parola volare è da sempre sinonimo di libertà leggerizia evasione e nell'immaginario collettivo quella canzone va rigorosamente interpretata spalancando le braccia proprio come fece lui a Sanremo nel 1958 sono passati 30 anni dalla morte di Domenico Modugno stroncato da un infarto nella sua casa di Lampedusa a soli 66 anni lui uno degli italiani più conosciuti al mondo nel gota canoro del nostro paese quanto i suoi colleghi Luciano Pavarotti Enrico Caruso lui uomo di un sud bistrattato divenne famoso in America come cantante pop vinse anche il Grammy e conquistò il mondo e a Polignano amare tutti ma proprio tutti non perdono l'occasione per scattarsi una foto sotto la statua che ritrae il suo più illustre cittadino Modugno ha portato Polignano nel mondo però Modugno si portava a Polignano mi piace pensare che nella sua testa quando era solo quando girava l'Italia e il mondo si portava a Polignano volare oh oh cantare oh 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 nel blu dipinto di blu felice di stare lassù con te al vaglio del governo un possibile aumento della tassa di soggiorno sino a 25 euro per gli alberghi extra lusso ma ad essere coinvolte ci sarebbero tutte le strutture ricettive tra i turisti netto di senso c'è stato per noi Domenico Brandonisio la precisazione d'obbligo al momento si tratta solo di un'indiscrezione ma a settembre se ne riparlerà infatti la tassa di soggiorno potrebbe subire un aumento fino ai 25 euro negli alberghi di lusso il tributo potrebbe venire stesso a tutti i comuni che vorranno applicarlo e potrebbe quindi diventare più caro nella bozza di degredo insomma l'aumento potrebbe essere fino a 5 euro nel caso di costo del pernottamento inferiore a 100 euro fino a 10 per una stanza tra i 100 e i 400 euro fino a 15 per una sistemazione tra i 400 e i 750 euro e addirittura come detto 25 nel caso degli alberghi di extralusso e quindi si andrebbe oltre i 750 euro a notte i turisti tanto italiani quanto stranieri sono assolutamente in disaccordo no assolutamente contrari anche perché io vado spesso a Milano per lavoro e lì sono 5 euro al giorno di tassa di soggiorno quindi non so qui a Bari ma è assolutamente contrari beh certo è un po' troppo dai 5 o sia 1,5 o 25 euro è un po' tanto già con sta gara hanno aumentato un po' tutti però le ferie sono queste si dice che possono aumentare i prezzi della tassa di soggiorno pensi sia una cosa giusta o quella? no no mai no non si deve aumentare ma no non se ne parla proprio al momento la tassa che io sappia è di 2 euro a persona però se serve per migliorare i servizi offerti al turista ben venga tuttavia senza esagerare ascensore fuori servizio da oltre un mese nelle case comunali al quartiere Paradiso di Brindisi ad intervenire dopo il nostro servizio il neoassessore Saponaro il servizio è di Davide Cucinelli torniamo sulla vicenda dell'ascensore fuori servizio dallo scorso 2 luglio presso le abitazioni comunali di via Benedetto Croce nel quartiere Paradiso vi abbiamo raccontato la storia di Carmelo Gorini malato oncologico che ai nostri microfoni ha manifestato tutte le sue difficoltà a lasciare la propria abitazione a causa di questa problematica abbiamo interrogato gli uffici comunali e a risponderci è stato il neoassessore servizi sociali Ercole Saponaro che grazie al nostro servizio ha potuto appurare questa problematica è anche l'esistenza dopo l'arrivo della documentazione di una situazione debitoria tra lo stesso condominio e la società di manutenzione dell'ascensore gli uffici comunali adesso si stanno facendo carico di questa problematica per portare ad una soluzione nel più breve tempo possibile io ho cercato di prendere informazioni su quello che è il problema ho la documentazione della società Gulli che ha intimato all'amministratore di condominio di pagare le spese di manutenzione in base al contratto che non vengono pagate da circa tre anni quindi questa comunicazione ci è arrivata a noi per conoscenza che ho ritirato adesso ho investito subito il dirigente al patrimonio e lavori pubblici per sostituirci nel caso al condominio che aveva il dovere sia di informarci su questa situazione del non pagamento perché quelle case sono del comune quindi alla proprietà il comune deve essere sempre informata davanti a un problema di questo tipo quindi ora abbiamo preso le informazioni ci stiamo attivando con i lavori pubblici di vedere di sostituirci e intervenire per cercare di risolvere il problema dell'ascensore perché in base a queste carte a un'ulteriore carta che abbiamo chiesto all'amministratore di condominio che ci deve fare che è impossibilità di intervenire per malcanza di fondi interveremo noi Siamo passati dunque a parlare delle segnalazioni dei nostri telespettatori andiamo a Taranto asfalto pieno di buche e marciapiedi rotti in via Pietro Nenni nel quartiere San Paolo sentiamo arrivarci in auto con l'asfalto rialzato e le buche davvero profonde colmate artigianalmente da qualche anonimo cittadino stavolta le segnalazioni dei nostri telespettatori ci hanno portato in via Pietro Nenni a Taranto al quartiere Paolo VI e nella piazzetta dell'edificio 2 qui dicono i cittadini la pubblica manutenzione è da tempo un miraggio e i pericoli per anziani e bambini ma un po' per tutti sono evidenti tra tombini rotti aperti rialzati marciapiedi spaccati dalle radici ancora loro e letteralmente esplosi mentre il verde pubblico è affidato alla buona volontà dei residenti servirebbe il completo rifacimento del manto stradale e interventi di ripristino dei marciapiedi sottolinea i nostri microfoni Fabio Briganti referente del comitato di quartiere Paolo VI Taranto nel cuore c'è il pericolo di inciampo e caduta per le persone anziane specialmente persone invalide con carrozzino oppure con stampere che non hanno più la possibilità di poter passeggiare nelle zone più tranquille tipo il marciapiede qualcosa cioè non riescono proprio a camminare perché cadono potrebbero cadere questo qui per camminare qui giù per salire via Pietroneni nella piazzetta c'è il rischio di fermarti per far passare l'altra macchina ci sono i dossi degli alberi che hanno alzato il catrame quindi che non ti permette giustamente è il senso di marcia quindi ti devi fermare un appello che parte dalla periferia e che come sempre giudiamo agli assessorati competenti bene questo era il nostro ultimo servizio grazie per la gentile attenzione arrivederci rimani connesso scarica gratuitamente dagli store o tramite QR code la nuova app di Antenna Sud più veloce e con più funzioni per essere aggiornato in tempo reale sulle news di Puglia e Basilicata seguire in streaming i nostri programmi o rivederli on demand da qualsiasi dispositivo grazie a tutti